Il termo è giusto dire niente, perché il termo è giusto essere niente, perché non piaceremo più, non finisce, se lo cambiamo perché siamo tutti i termini che moriamo e quindi diremo che tutto sarà eterno, anche quando lo moriremo, lo diciamo tutti che il mondo è stato, la vita è stata, e noi siamo, è terri, non è tenito, è terro, siamo qua, siamo qua, è teniamo, è terri, non è tenito, non ни ti, non è tenito, non è tenito. Grazie a tutti.